Per Roberto Di Pietra è il giorno delle spiegazioni. Dopo aver mandato una mail a migliaia di indirizzi per denunciare un presunto caso di violenza sessuale avvenuto all'interno di una residenza universitaria, il Rettore dell'Università di Siena ha motivato questa decisione che ha sorpreso anche la comunità accademica. Quando ne sono venuto a conoscenza ho ritenuto che fosse importante informare la comunità universitaria di questa circostanza e di incominciare a immaginare qualcosa che dica che quando no è no e quando è così bisogna che sia rispettato il no. A sorprendere in questa iniziativa è soprattutto la tempistica accompagnata dalla mancanza di dettagli ulteriori e precisazioni a specifiche richieste. Il fatto risalirebbe a mesi fa e prima dell'estate ci sarebbe stato anche il rinviaggiudizio. A smuovere il vertice dell'Ateneo sarebbero state anche l'approssimarsi dell'inaugurazione dell'anno accademico e della giornata contro la violenza sulle donne. Il 25 novembre celebreremo la giornata contro la violenza sulle donne e vogliamo avviare un percorso di informazione e di formazione perché questo tipo di comportamento, permettetemi di dire, questa barbarie non continua a manifestarsi. Sul caso incriminato invece impossibile saperne di più, fatta eccezione per un particolare. La persona ha chiesto ovviamente di cambiare residenza. Nel frattempo è arrivata la precisazione dell'azienda per il diritto allo studio che ha evidenziato di non essere a conoscenza di episodi di violenza nelle residenze DSU e sottolineato il dispiacere per la mancata comunicazione tra istituzioni.